Avete visto la risposta? Ci sento a me? E' nada, perché a me da un sogno Quello di diventare il protagonista di un musical E' nada, perché a me da un sogno 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 Sairi Sairi A- bravo Saira bravo, bravo bravo cosa fai? vieni 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 oo si vis and inco es very chau che икс chan ti so vieni mi Sì, bravo. Oh, Sairi! Sì, bo più di più. La tua rocisa è stata qui. Sì? Sì, qui? Sì, qui? Sì, qui? Sì, qui? Sì, qui? Sì, è una rocisa. Sì, non è bisogno di metà la rocisa. Hai? Sì. Sì, sì, sai. Sì, t'ai già già sono tutti? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ciao! Ciao!